Un Presidente del Consiglio, con tutti i casino che abbiamo, ma pure alla festa di Noemi doveva andare? Dico, ma chi glielo dà il tempo? Perché uno si immagina che un Presidente del Consiglio abbia talmente tanto da fare che non ce la fa andare ai 18 anni di una ragazzina. Un cattivo esempio, si ripropone un modello maschile così antiquato, da conquistatore, donnaiolo, al di là forse anche del rispetto, delle regole, incondizionatamente gallo cedrone. Per un giovane credo che non sia interessante come modello e credo che sia anche abbastanza lontano realmente dai giovani che ho modo io di osservare. La politica di Berlusconi rispetto alle donne è inesistente, nel senso che non c'è una politica rispetto alle donne, anzi mi sembra alla fine, forse anche non volendo, c'è un danno nei confronti dell'immagine del femminile.